Telespettatrici, telespettatori di TV7, ben trovati ad un nuovo appuntamento con il Comitato Paralimpico del Veneto, ben trovato nei nostri studi anche al Presidente del Comitato Paralimpico Veneto, Ruggero Vilnai. Presidente, chi andremo a conoscere nel corso di questa puntata? Questa sera abbiamo con noi una grande Presidente, Laura Rigato, che è Presidente della Speia Padova, una delle prime qua nel Veneto ma anche in Italia, ma anche una società che ancora oggi è molto preparata, molto disponibile e quindi ci parlerà della disabilità intellettiva nei varie attività sportive. Allora andiamo con il filmato e successivamente conosceremo Laura Rigato. Lo sport è per tutti, per coloro che hanno passione e determinazione a superare le spide della vita. Il Comitato Paralimpico Veneto, tramite le società, è impegnato a sostenere le persone con disabilità attraverso lo sport. I nostri atleti praticano diverse discipline, partecipano a competizioni nazionali, internazionali e alle Paralimpiadi. Il CIP Beneto auspica che sempre più persone disabili si avvicinino allo sport, scoprendo la voglia di competere e divertirsi. Ti aspettiamo, contattaci. Ben trovata Laura Rigato, presidente di Aspea Padova, grazie per averci raggiunto nei nostri studi. Grazie a voi per l'invito, mi fa molto piacere questo invito per parlare un po' del nostro mondo. Ecco, ci racconta cos'è Aspea. Allora, Aspea Padova è un'associazione sportiva dedicata a persone con disabilità, che può essere disabilità fisica o intellettiva. È nata nel 1980, quindi è una delle più storiche società italiane. È nata con l'atletica per la disabilità fisica, poi un po' alla volta e soprattutto nuoto atletica. Poi hanno incominciato con il nuoto e a Padova il signor Benito Daga ha inserito nell'attività natatoria anche gli atleti con disabilità intellettiva, soprattutto atleti con sindrome di down. Da allora siamo cresciuti tantissimo. Adesso abbiamo il settore nuoto fisico e intellettivo, che conta quasi 20 atleti iscritti. Abbiamo il settore atletica, purtroppo solo intellettivo, perché i fisici li abbiamo un po' persi in questi anni, che conta una sessantina di iscritti, però gli stessi atleti praticano anche tennis o sci. Quindi noi facciamo praticare i nostri atleti quattro discipline, nuoto atletica, tennis e sci. Ecco, dicevamo una realtà storica, quindi avete di fatto più di 40 anni. Le chiedo, com'è stato i primi tempi? Perché immagino che, se pensiamo alla società di più di 40 anni fa, forse non eravamo neanche molto pronti per questo lavoro che fate voi. E quindi le chiedo, com'è stato i primi tempi? I primi tempi, credo che il presidente dell'epoca, che il signor Gerovin Naifalep, è stato il primo presidente della Spea Padova, beh, oddio, è stata dura però a quello che sento io dagli atleti, che allora erano atleti e adesso sono i miei consiglieri, però hanno lavorato tanto. Loro si allenavano ovunque, poteva essere il campo di atletica, poteva essere una strada, poteva essere un'argine, loro trovavano qualsiasi modo per allenarsi, perché il loro obiettivo finale era la competizione, che poteva essere nazionale, ma anche internazionale. Infatti moltissimi di miei ex atleti sono andati quasi tutti alle Paralimpiadi. Io sono orgogliosa di dire che molti atleti della Spea Padova hanno partecipato a eventi internazionali e a Paralimpiadi. Siamo stati un po' un vivaio della nazionale italiana in tutti i livelli e questo mi rende veramente molto orgogliosa negli anni. Abbiamo avuto tante difficoltà, perché non essendo un gestore di impianto, l'impianto lo dobbiamo chiedere, lo dobbiamo noleggiare. Però sinceramente con le nostre possibilità, con gli sponsor trovati negli anni, con il lavoro che facciamo in Spea Padova, abbiamo sempre mantenuto una situazione per cui potevamo dare la possibilità agli atleti di allenarsi. Chi iniziare con la scuola, con l'avviamento allo sport e chi invece perfezionarsi, qualora fosse diventato o diventasse di interesse nazionale, per migliorare le capacità e raggiungere l'obiettivo della vincita, che poi è quello. Perché insomma l'obiettivo dello sport è comunque anche quello. Il nostro obiettivo principale, però fin dall'inizio, è sempre stato uno. È sempre stato quello di avvicinare più atleti possibili, sia con disabilità fisica che intellettiva, al mondo dello sport. Perché? Perché noi siamo convinti, ma diciamo che i risultati ci hanno dato ragione, che lo sport per i nostri atleti è sempre stato. Intanto impegno, secondo rispetto, imparare rispetto delle regole, terzo l'autonomia e non per ultimo l'autostima. Sono quattro cose che noi cerchiamo di, attraverso lo sport, quattro obiettivi da far raggiungere i nostri atleti. Quindi se ci arrivano da piccolini, facciamo un percorso anche con le famiglie, perché non dimentichiamo che le famiglie sono fondamentali nel mondo della disabilità. Perché se io non avesse le mie famiglie, guardi, io farei molto poco. Perché non solo per l'impegno di accompagnare gli atleti, i loro figli, alla pratica sportiva, ma anche tutto il lavoro di aiuto che c'è nel momento di bisogno, di organizzazione di eventi. Loro sono fantastici. Fondamentali. Senta, noi nel corso delle varie puntate che stiamo registrando in questo viaggio, che facciamo, perché è il caso di dirlo così, con il mondo paralimpico, quando parliamo con gli allenatori, i tecnici, i dirigenti, che lavorano con atleti con disabilità intellettiva, ci dicono sempre che è molto arricchente. Che forse è addirittura più arricchente che non lavorare con un atleta all'interno dello sport, magari olimpico, piuttosto che paralimpico. Ecco, come mai? Perché? Perché, vede, l'atleta con disabilità intellettiva è un atleta che ci mette una forza e un impegno nel portare a termine l'allenamento, piuttosto che la gara, piuttosto che il raggiungimento di un obiettivo, che ti dà una soddisfazione finale che non ha, guardi, le dico, non ha nessun prezzo. Io penso sempre, dico sempre, che questo mondo, questo mondo dello sport, della disabilità, mi ha reso la persona che sono, che sarei stata completamente diversa se non avessi fatto questa esperienza. Primo perché ci insegna a rapportarsi con la gente, ci insegna il modo di fare con le persone. E quindi, una volta che uno entra nel mondo della disabilità, non ci esce più a livello sportivo. Questo, guardi, è difficile proprio uscire. Uno esce proprio alla problematica impegnativa. Ma porta ad arricchirci, non arricchisce solo gli atleti dal punto di vista di autostima, di autonomia, come dicevo prima, ma arricchisce noi. Ci insegna a comportarci, ci insegna a rapportarci. In tante maniere, con tante persone, in tante realtà. Io ho 20 atleti nel nuoto, perché oltre a essere presidente, sono anche l'allenatrice del nuoto, della disabilità intellettiva. Io a volte ho 20 comportamenti diversi, perché ognuno ha le sue caratteristiche, ognuno ha le sue difficoltà, ognuno ha le sue caratteristiche. E quindi questo ti dà questo, ti arricchisce, ti aiuta, ti forma. Io dico ti forma. Mi fa piacere sentirla raccontare, perché si vede che veramente anche lei è coinvolta in questo al 100%. Senti, allo scorso settembre a Padova ci sono stati i campionati europei, proprio per atleti con sindrome di Down. La città di Padova li ha ospitati, anche un po' per caso forse, però le chiedo che esperienza è stata. È stata un'esperienza tosta, però era un'esperienza che noi come Aspea, un europeo, lo volevamo organizzare. Ci è capitata questa cosa alla fine dell'anno scorso, durante un evento di nuoto, un consigliere federale mi si è avvicinato, siccome c'erano state delle difficoltà nel trovare la location per questi europei, che ormai erano stati segnati all'Italia, lui mi disse che dici Laura ci vuoi provare tu? E io ho detto sì, non subito, l'abbiamo detto un po' più tardi. Ci ha pensato un po'. Ci ho pensato un po'. Che poi sembrava fosse una o due discipline, alla fine abbiamo organizzato un europeo di otto discipline. Infatti c'era il nuoto, il nuoto sincronizzato, il tennis, tennis tavolo, atletica, calcio, basket e judo. Il tutto portato negli eventi comunali, nei palazzetti comunali del comune di Padova, ospitati nella città di Abano Terme, infatti erano veramente contenti, perché insomma, diciamo, la città di Abano Terme ha degli alberghi fantastici. Esatto. È stata importante, hanno partecipato 23 nazioni, poi il settore nuoto ha aperto le iscrizioni open, quindi abbiamo avuto tre atleti dagli Stati Uniti e un atleta dal Sudafrica. È stato bello, qualche difficoltà, perché quelle ci sono sempre. La cosa che ci è ritornata e che ci ha fatto molto piacere è stata che gli atleti sono stati benissimo negli alberghi, gli impianti erano favolosi, quindi i complimenti alla città di Padova per gli impianti sportivi che ha fornito e anche il livello di giudici cronometristi, perché abbiamo chiesto tutti i giudici di federazione, è stato massimo, veramente. È stata una cosa bellissima. Abbiamo fatto la cerimonia di apertura in Prato della Valle, quindi hanno potuto anche godere delle nostre bellissime cose che abbiamo qui a Padova. Certo, sicuramente fa onore a voi che l'avete organizzato e fa onore ovviamente anche alla città di Padova. Sì, sì, ci hanno aiutato, l'assessorato allo sport ci ha veramente aiutato tanto. Visto che siamo in chiusura, l'obiettivo di queste nostre trasmissioni è anche quello di far sì che sempre più persone diversamente abili si avvicinino alla pratica sportiva. Allora, abbiamo una presidente di un'associazione molto radicata nel territorio, le chiedo se qualcuno volesse avvicinarsi allo sport e scegliesse Aspea Padova, come può fare? Può collegarsi al nostro sito che è www.aspeapadova.it e può vedere anche, andando su un Sudsec 2023, l'evento che è stato organizzato, quindi vi rendete conto un attimino di qual è il livello, quale livello si può arrivare. Però io rivolgerei un appello non solo alle famiglie che hanno atleti con disabilità, però io rivolgerei l'appello anche a chi sa fare sport, a chi insegna sport, di avvicinarsi a noi e darci una mano, perché non è sempre così facile trovare tecnici preparati, perché noi alla fine di tutto abbiamo bisogno di persone preparate che avvino allo sport. Quindi ne approfitto sinceramente per chiedere anche se qualcuno che già insegna sport di qualsiasi livello voglia aiutarci in questa avventura. Grazie Laura Rigatto, presidente di Aspea Padova, grazie a tutte le nostre telespettatrici e tutti i nostri telespettatori per averci seguito. L'appuntamento è alla prossima puntata in compagnia del Comitato Paralimpico del Veneto. Arrivederci.